I servizi televisivi critici sulla gestione Bramezza non sono diffamatori. È scritto nero su bianco nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che smonta mattone per mattone l'impianto costruito sulla vicenda dell'Ulse 7 Pedemontana e del suo DG Carlo Bramezza. Da qui si dispiega la demolizione sistematica del castello accusatorio, del quale vengono sbriciolati anche quelli che venivano considerati piloni portanti dell'indagine, ovvero gli infermieri alla guida delle automediche, tema che ha suscitato polemiche anche a livello nazionale. Oppure la gestione del punto tamponi in piena ondata pandemica sulla quale il Tribunale dice pare francamente questione di massimo interesse per l'opinione pubblica locale. E sull'opportunità di portare all'attenzione del pubblico il caso della senologia del San Bassiano falciata e trasferita a Sant'Orso in barba alle schede ospedaliere regionali, i giudici sottolineano che nemmeno serve scrivere troppe righe. Insomma, è del tutto evidente anche per il Tribunale di Venezia l'interesse pubblico delle notizie per la popolazione del territorio dell'Ulse 7 Pedemontana. Per di più in un ambito, quello della libertà di stampa tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Libertà che è invece stata lesa in occasione della clamorosa esclusione di una truppo di Rete Veneta da una conferenza stampa convocata proprio da Bramezza nella sede dell'azienda sanitaria nel dicembre del 2021. Su questo episodio l'ordinanza è lapidaria. Non può tacersi, sentenziano i giudici. Ma c'è di più. Il provvedimento si concentra infatti sulla questione del buco da 11 milioni di euro cui è chiamato a rispondere lo stesso Bramezza. Alle tre domande poste nei Tg di Rete Veneta sull'opportunità che a una persona che si trova in questa situazione venga affidata alla gestione di un'azienda sanitaria non aveva mai risposto nessuno, pur avendo sempre lasciato aperti i nostri microfoni per tutti. Al massimo si era parlato di questioni personali. Ebbene, l'ordinanza recita testualmente che la vicenda non è priva di interesse pubblico. Sentite cosa riporta il documento. Nel caso di un privato cittadino, la situazione debitoria e l'avvio di procedure di sovraindebitamento debbono considerarsi fatti privati. Non è così per un dirigente pubblico le cui attività hanno un impatto rilevante sulla finanza pubblica. A maggior ragione quando l'esposizione sia di rilevante a montare. Ecco, questo è quanto. Per il Tribunale del Riesame non c'è diffamazione e sussiste l'interesse pubblico nei fatti raccontati dai tanti servizi sull'Ul7 e Bramezza andati in onda nei nostri telegiornali. Questo però lo sapevano già le migliaia di cittadini che hanno sottoscritto la petizione per un'Ul7 diversa e tutte le persone che ci hanno contattato per segnalare la disorganizzazione nell'azienda sanitaria. E le tre domande, nonostante siano rimaste senza risposta, erano più che opportune. Ma il pronunciamento del Riesame apre la porta a nuove domande interrogativi su quanto è accaduto nelle ultime settimane. Stavolta le risposte arriveranno. Ci auguriamo. Grazie. 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 Grazie.